Cari amici, oggi vi portiamo in uno dei quartieri più ambiti dai nostri clienti, il West Village. Quello che vedete è uno dei rari condomini pre-war di Manhattan. Una lobby semplice e raccolta vi accoglie fino al quarto piano di Christopher Street. Si parte da un atrio interno che dà verso il soggiorno incassato, la cucina di lato e un caminetto a legna incorniciato da una cappa in pietra scolpita a mano. Gli elementi moderni che notate includono pavimenti in pietra calcarea, banconi e backsplash in roccia di quarzo. Il bagno è una seconda casa. L'asse di marmo dal pavimento al soffitto con vasca cast iron originale. Minosti e genti vi aspettano nel West Village. Home is where we are.